Mi son visto Giorgio, ho detto bello, andavi in giro a chiedere Ma tu lo conosci Giorgio e loro chi? Chi? Cos'è Giorgio? Chi? Ma vero, ma sì, ma anche Giorgio è diventato conosciuto negli ultimi anni, eh, cioè Quando lo guardavo io, non è che lui era così conosciuto Ti pisciò la vita Che è? La cornice è rotta, eh, cosa serve? Dove sei? Ah Ma serva a qualcosa o non serva a un cazzo? Spazzatura, prendiamo tutto, non ci serve a niente Non penso abbiano il copyright, le sigle dei cartoni, sennò nemmeno il ragazzo avrebbe potuto farle vedere Vabbè, rottami mi serve però A noi serve il legno Ti serve il fottuto legno Dobbiamo ricostruire la base, abbiamo bisogno Eccolo, altro legno Legna tre, yes Oh, fermo, 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 fermo Do we really need it? Non è che trovo altri pallet Mi servono Sono un povero Non è che mi servono altri pallet Rottami Vieni qua, stronzo di un carrello La gomma teniamola, magari ci posso fare qualche... No, eh... Chiedi ai creeps di occuparsene Non ho tempo di stare lì a pensare Devo raccogliere la legna Mangiamo Stavo per pisciare addosso al pulizionato Vediamo se riusciamo a Costruire la roba che ci serve Devo capire anzitutto Aspetta che forse posso salvarli Vaffanculo Datemi le vostre risorse da barboni Ti piscio l'anima, stronzo Ti piscio la madre Cassetto rotto E che cazzo serve? Do we really need it? Non lo so, nel dubbio l'ho messo per dopo Questa è buona che ci facciamo il metallo Possiamo tornare alla base Penso che abbiamo abbastanza risorse per ricostruire le cose perse Questo ci faccio il legno Yes, che culo Vieni qua, carrello Oh, che cazzo di paura? Ma che ti urli? Torniamo alla base Allora, ricostruiamo Questo Questo lo mettiamo qua che secondo me è più protetto Come cazzo Poi Dobbiamo potenziare la piccionaia A noi quale piccionaia serve? Questa? Que cazzo? Va bene Va bene Va bene Ma in teoria Nooo, dovevo fare questo Ho sbagliato Ho sbagliato Però posso fare le torrette di difesa almeno Così non mi cagano più il cazzo Ho sbagliato Ho sbagliato Mancano i chiodi Hai ragione Mancano i chiodi Comunque Tanto andiamo a recuperare un altro legno E i chiodi Legno easy Guarda Legno l'abbiamo già recuperato Guarda che meraviglia Facilissimo E i chiodi? Dove cazzo li prendiamo i chiodi? Dove sei? Ah, sei lì Che succede? Eh, ma i chiodi? Ah, il tavolo? Ah, aspetta Dici che posso farci Posso farli con un coso? Vieni qua, Giorgio Vediamo un po' Mi dai rottami Intanto questo Non vedo Ah, questo Filo, grazie per la sub Venuto tra noi per armare Non c'è niente che mi dà dei chiodi Solo rottami Con i rottami Ma con i rottami non posso fare i chiodi Qua? Adesso provo a farli Adesso provo a farli Intanto dammi questo Ma dammi questo Che nato facciamo i rottami Chiodi Eh, voglia Allora Crea Crea Ora c'ho anche i chiodi Allora Migliora Ora possiamo fare Ora possiamo fare No Ma io non voglio i picchieri Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'era successo? Scusa Io vorrei fare Anche un attimo Delle torrette di difesa Per capire Cosa mi serve Le torrette Cos'è? Cos'è? Ma cosa Le torrette Com'è che si fanno? Chiodi Fogli d'alluminio Mi servono i chiodi E i fogli Vabbè chiodi sì E i fogli d'alluminio Che non li ho Sono i fogli d'alluminio Che non li ho Andiamo a vedere Come si fanno i fogli d'alluminio Mi serve l'alluminio Vabbè non fa una piega Va bene Non fa una piega Per fare i fogli d'alluminio Mi serve l'alluminio Va bene Tanto qua Oh nice Questo ricicliamo Che ci rileviamo dal cazzo Ne ho fin troppi Ne ho fin troppi Di notarmi Forse li dovrei posare Ok Sì ma Antonia Io voglio i piccioni Quelli Non voglio i piccioni Quelli I picchieri Come si cambiano Non voglio questi Ti consiglio il fumetto Più che l'anime Di Death Note Perché nel Death Note Nell'anime La parte dopo L È stata tutta tagliata È una merda Invece è molto più figa La parte La parte con L È molto figa La parte con N È molto figa L'hanno tagliato Un sacco di robe Ed è orrenda Direi che possiamo andare A vedere se possiamo Fare la missione Ora In teoria Ora potrei spaccare Le telecamere Eh non lo so Quegli esplosivi Non so quanto vi manca Che vanno su Eh quanto costa il fumetto Dipende Non so quanto costa tutto Dipende quale edizione Prendi Del fumetto Tipo io volevo comprarmi Tutta la Black Edition Ma costa tipo Costo tipo 110 euro E' molto figa La Black Edition Andiamo Devo salvarli Vediamo come funziona La mia nuova abilità Non credo di capire Vabbè Bah c'è di meglio C'è di meglio Dai Oh Oh Stroke Dove vai? Dove vai? Coglione Coglione di merda Devo salvare il tizio Così Così possiamo chiedere Di salvarci la base Nel caso Più tardi Ora Stabiliamo Dominanza Stabiliamo Dominanza Una volta che saranno Marchiati Saranno nostri Per sempre Ora che li abbiamo Marchiati E ora Torniamo alla missione Il potenziamento Io l'ho fatto Quindi in teoria Ora dovrei essere in grado Di rompere le telecamere In teoria No non qui Non qui Per l'amor di dio Per l'amor di dio Non qui L'ultima volta C'eravamo incastrati Malissimo Con quale musica Me lo stai dicendo Con quale According to the intel Provided by Dr. East There should be Ten cameras Hidden around here Let's take them out Before we go in Maybe we could use Your explosive pigeons For that Eh Eh capito Ma come si usano Come si usano Eh si la banza GIFT 50 SUB Si Come si Come si usano I piccioni esplosivi Eh come cazzo Verso Verso le impostazioni Seleziona ruota È quella Catalogabilità Eh ho capito Eh ho capito ma Non è che ho fatto L'upgrade Sbagliato E che scusami Che vuol dire Se mi dice Che posso farlo Vuol dire Non mi ha detto Che non posso usarlo Sbagliato Sbagliato Ah ok Ok Quindi questa In teoria Che è successo No Quindi è Ma ferma Che succede Ah eccoli Sono qui Come li sparo Ah così Ma dai C'ho i piccioni Con le bombe E la fascia Da kamikaze Ma ti prego Ma E siamo tornati Nella seconda guerra Banzai Jax Grazie per i due Bentornato Tra noi Per armate Pagatino Banzai Stiamo giocando Per l'arbor simulator Ah questa è qua Ne vedo A una è lì Aspetta Ne avanzano Due Ah ecco Una è lì Ma che ne so È per variare un po' Un patatino Che carina Che carina Che carina Che carina Che carina Che carina Poverini Lascia fare Lascia fare E lo scopo Hanno vissuto Hanno combattuto Una vita Per questo Ma verso cosa Tanto cominciamo Andiamo a marchiarlo subito Ma questa è una miniera d'oro Cioè più o meno Sono i piccioni di Zeb Oh nice Quanto sarebbe bello se i piccioni quando i lanci Cominciassero a fare Ments 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 Guarda quanto bellissimo legno Quante belle risorse naturali Aperol I remember that machine which messed us up was standing right here However It seems we're too late They left and took most of the stuff with them Let's look around Maybe we can find some clues as to their new whereabouts Ma è tipo È tipo il coso di Bill dei Pokemon Che invece che trasformarlo Hey This is me I mean It's the same shopping card What I'm currently Possessing Bisogna di mangiare qualcosa Zio non c'è cibo qua dentro Non mi rompe i coglioni Mi sopporta la fame Israele grazie per i tre Ben tornato tra le mie paperamate Nel carrello c'è del cibo Si hai ragione Volevo tenere come scorta Ma teniamolo dai C'è anche un drink Così almeno mi faccio una birrozza Volevano creare Mewtwo Devo trovare altri indizi Non che qua ce ne siano proprio tantissimi Da esplorare la lavagna No Strano Pensavo di sì Qui Animal testing They sure live up to the evil way name Ma non erano cinque gli indizi Perché ora sono aumentati Continuando ad esplorare Per capire cos'è che devo guardare Ma La U Ah la U Torniamo indietro Magari ci siamo persi degli indizi Dietro Qui da dove sono entrato No Devo finire gli indizi Che indizi mi mancano da guardare Da scrotare Dei fo... Ah sì Forse è quell'agendina là Ah sì Why do I have to read it? Fine As expected Trying to make a hybrid With non organic matter Resulted in the death of the subject Remains dumped to the streets In accordance with the new evil way cost saving policy Hey I think that's about me Qua c'è una tv Una tassa Non posso farlo il gameplay di Grezzo 2 È vietato God I hate reading One capsule Dehibernated During the weekend Due to equipment failure After switching to cheaper parts Non sono mai accettato In accordance with the new evil way cost saving policy Other capsule opened manually work suspended until test subjects are retrieved Ok abbiamo preso tutto Ok It seems that evil way was experimenting on more people than just us However the experiments escaped and evil way went hunting for them If they're still out there then maybe they can help us out We are fellow experiments after all Eh ma si ma chi c'è sto Also this is the only lead we have right now So we have to follow it Andiamo a cercare le altre cavie per capire Andiamo a cercare le altre cavie per capire Una U Ah veniamo di notte Torna tra le 22 e le 2 Va bene Ah perfetto è notte possiamo cominciare Ah no Sono le 7 del pomeriggio Intanto Intanto vorrei uscire però Non posso tipo dormire qui No non posso dormire per terra Faccio anche lo schizzinoso Magari se esco fuori Posso tornare che ho dormito un po' Ma non è questa l'uscita scusami No no è questa Non se trovo una panca dove dormire Così magari posso tornare Immediatamente alla missione Quella Ha ha Rifiuti freschi Ciapa Oh scusami carrello Do we really need it? Si si che ricicliamo Lascia fare carrello Vediamo se trovo una panchina dove dormire Eh si è anche super botte bamba e due Vietato raga Sono giochi un pochino troppo spinti Io tra l'altro devo occuparmi anche del Patreon No non mi do mica scordare Che ho un Patreon da fare io Devo occuparmi anche del Patreon Per portare contenuti extra non portabili su Twitch Cos'è? Cos'è Patreon? È only fan non porno Per riassumere Magia Dormo qua posso? Ah merda ma sono già le 10 Posso già tornare a posto? Mi stavo cervellando per capire dove andare Ora abbiamo la missione Non faccio tutorial come costruire bombe Perché terrorismo A me lo chiedi Io che ne so Eh va bene andiamo carrello Che cazzo Nascondino Cosa nascondino Ah ah Ok Ok Eccola la la vedo Non c'è danno da caduta Mi sembra di capire Sto guardando La freccia diceva giù di qua Eccolo me qui Eccola Nascondino Nascondino la missione Qui no Qui no Se a me si costruiva un'arma da fuoco Ho fatto chimica non ingegneria Però penso che un'arma molto primordiale da fuoco Volendo potrei farla Però non ho fatto Ingegneria Parato Io ho fatto chimica Quella è roba da ingegnere Non da chimico Non so Non so Non sono convinto che la strada sia giusta Ho capito Ma qui non abbiamo tempo da perdere Ma cosa ho un data finale Che paura Ma questa è la nostra Era giù il cartello Era sotto Adesso provo a scendere Tanto la base l'abbiamo presa Ma giù dove? Dove giù? Quello non è un cartello Quella lì è una piuma Dove era il segnale di prima Che provo a Il segnale di prima diceva Dritto di qua E io vado dritto di qua Raga Mi stanno inseguendo Sì esplosivi Volendo li so fare Quelli Ma sono abbastanza Facili da fare Lowen Grazie per gli otto Mi trovo per armare Patino Sto provando a fare veloce Ma Sì anche le droghe Raga Però è implicito Che non Che non Non andrò mai a fondo Eh giorno Eh io l'ho seguito I segnali Guarda che ho Delle statistiche Da usare Abbiamo qui Le sementi Che nel tempo Raffanello Nel tempo Raffanello Delle piccole abilità Inferiore Aumentano Stato gli attacchi Corpo a corpo Ogni pugno Può mettere A tappeto Il nemico I taser Non ti rallentano Aspetta Mi sa che non ho L'altro di puntabilità Da usare No Cazzo Eh Ma dove Merda Eh Non ce l'ho fatta E sto cazzo Non ce l'ho fatta Cioè E prova domani notte No 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 Adesso vado a dormire Ci riproviamo subito Quanto era Se l'ho visto Perché me è del mio telefilm preferito L'ho visto tre volte Quanto è realistico Allora Il fulminato di mercurio Non fa neanche Lontanamente Quell'esplosione Se te lo stai chiedendo Il fulminato di mercurio È più simile A un forte petardo Non fa assolutamente Quell'esplosione lì Te lo dico già Per quello che riguarda La produzione di metanfetamina Farla così pura Ci credo il giusto Ma sono fortissimi Ma è fortissimo Il piccione Nei coglioni L'ho tirato Ma quanto sei resistente Cos'è sta roba Posso dormire Similiamo il progetto Chi è Ma chi è Dove è andato il carrello 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 Oddio scusa Ah è pieno Aspetta Fammi togliere della merda Questa secondo me Ci possiamo fare il metallo Devo trovare dove dormire Adesso però Per essere un barbone migliore Per essere un barbone migliore Ma non me ne frega un cazzo No non voglio farla Non mi rompo Dai non me ne frega un cazzo Non voglio farla Non mi rompo il coglione Non me ne frega niente Non ce l'ho fatta Me ne sbatto Ma scusa Ma c'era la bacca Quella buona Mi sono spagato Un timbolo Come salti male Allora vediamo se riusciamo a trovare un posto dove dormire vicini Che l'entrata della missione è lì Per diventare un barbone migliore Ascolta un cartello parlando Ma vaffanculo Ma scusa Ho sempre beccato delle panchine di merda Dove mettermi per dormire Ah è lì Perfetto Guarda Eccola là Ottimo Dormiamo E facciamo arrivare Non so Dormi Facciamo arrivare Le Massimo otto ore Ma come Perché Adesso ridormo Scusami Facciamo arrivare Le Il tuo sonno è limitato Da fame e sete A O Lasciamo arrivare Le 9 e 20 Così siamo direttamente là Ok Possiamo andare alla missione Che cazzo ha fatto a sfuggirmi Quel segnale di merda Madonna ma scorre velocissimo Il tempo Cazzo Vediamo che magari con lui Siamo anche più veloci Donna mia Come si guida male Ok Cerchiamo di non sbagliare Stavolta Stavolta Non sbagliare In teoria Si In teoria Dritto per dritto Si dovrebbe riuscire a trovare Scusa zio Ti aiuto dopo Non ci andiamo per aiutarti No che c'è la polizia Stavolta Stavolta Non perdiamo tempo Andiamo dritti per dritti Di sotto Non mi rompete i coglioni Vi prego Dai Non mi rompete il cazzo Che c'ho roba da fare Vediamo se è giù di qua Eccolo Ma dai Ma vaffanculo Ma tua madre Si allena coi piccioni Ma dove cazzo è il segnale Che bisogna farlo così complesso Dove merda è sto segnale Che cazzo è il segnale Scusa era dritto di qua Poi c'è sta merda Andiamo giù di qua Se di là non c'è Magari è di qua Da qualche parte Da qualche parte è sto Sto cazzo di segnale Per me non è di qua Sta scena ti piscio L'hai visto Dove Dove Dimmi dove merda Dimmi dove merda L'hai visto Sto cazzo di segnale Che non c'è Da nessuna parte Ma dove cazzo è sto segnale Ma come nell'erba lì Ma come Ma dove Ma dove ragazzi Nell'erba lì Che cazzo è No Quello è l'addestramento Non c'entra niente Magari non era quello Che avete visto Ma quello era l'addestramento Eh lì nell'erba La patato dove Io non lo vedo Fa maledita Usare le frecce Facendo maledita Usare le frecce Adesso mi guardo Dopo mi guardo Un gameplay Perché mi sono rotto il cazzo Di cercare sto segnale Dura fino alle 5 Più o meno Porca puttana Sto cazzo Di segnale Di merda Dove cazzo sta Perché i primi Sono così facili Gli altri Non si capisce Un cazzo Di dove sono Adesso mi guarderò Anche un gameplay Così so Dove cazzo Deve andare Che maledita Non crampo al pollice Andiamo a picchiare Intanto gli stronzi Così Prendiamo anche punti Sarà meglio Jafar Che palle Vamo là come vuole Ma ancora vivo Sì Non crampo al pollice Cos'abbiamo qui Cos'è questa roba Tende Ma come tende Ma come tende Che tristezza Sta roba Per due tende Ora posso usarlo Lavandino rotto Cioè che non serve A niente Cos'è sta roba Che puzza Ma che schifo Mi sto mangiando Dell'aglio Vabbè Non è che ha litino Profumato al limone Magari per la ceramica Eh può essere In effetti Può essere Può essere Che sia per la ceramica In effetti A me sto gioco Mi sta Inspiegabilmente Piacendo molto Lo dico Mi sta piacendo molto Questo gioco Venga 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 Dove Si fermi Si fermi Venga Che la benedico Venga Che la benedico Tutto Venga Che la benedico Tutto Ma che succede Quanti sono Ma questi Dove cazzo Sono usciti Scusami Ehi Stop That Ah Mi faccio un bello Ciampino Faccio un bello Ciampino Che mi faccio Venire Tutti i più belli Freschi Oh buono Cartone Sempre a Bulli Cosa abbiamo Rottami Buonissimi E' un po' Ci assomiglia a Bulli In effetti Pappere Io anche questa sera Vi ringrazio Per i follow I cheer Le salvi Il divertimento Le risate Noi ci vediamo Domenica Alle 21 Per una nuova live E domani pomeriggio Sono nella live Della Lontra Io vi auguro Tanta buona Anna Padatini Vi mando un abbraccio Un bacione Noi ci vediamo Dopodomani Notte Pappere